Del resto, un anno fa, in questo momento, in questo periodo, i talk show e anche questo Parlamento, guardate gli atti, erano piene di previsioni catastrofiche e catastrofiste e dicevano che nel Nord-Est, per colpa di questo Governo, ci sarebbe stata la peggiore stagione turistica. È stata la migliore stagione turistica degli ultimi vent'anni, alla faccia di quelli che giocano sulla paura. Concludo. Noi abbiamo una strategia precisa, che è quella, dico con parole vostre, di aiutarli a casa loro. Siccome siamo un po' meno brutali, pensiamo che questo si traduca in cooperazione internazionale, la stessa che per anni avete tagliato. Si produca in un progetto dell'Africa, per l'Africa e con l'Africa, in grado di garantire a quei Governi di riuscire a dare un'occasione di lavoro. E si conclude, concludo anch'io perché i tre minuti sono terminati, e si conclude con un dato di fatto. Ci sono 155 mila persone che sono arrivate lo scorso anno. Voi preferite dire profughi a sbafo, a scrocco, non ho sentito come li chiamate. E dite che noi siamo andati a prenderli in mare. Sì, è vero, noi siamo andati a prenderli in mare. Perché quando c'è una donna e un uomo che rischia di affogare, noi stiamo dalla parte della dignità. Scegliete la paura, noi stiamo dalla parte della dignità. E l'interesse nazionale si difende difendendo i valori, non i vostri fantasmi.